Il reddito di cittadinanza non è in grado di avviare un programma serio di politica economica con l'obiettivo di creare lavoro stabile nel lungo periodo. È la convinzione del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Pier Giorgio IV, secondo il quale il provvedimento rimane ferma ad una natura prettamente assistenziale. Un rimedio, dice, contro la lotta alla povertà dalla portata transitoria, non da considerarsi come uno strumento di politica attiva del lavoro e caratterizzato da costi enormi. Quarto auspica che il governo Draghi metta in campo politiche strutturali che prevedano l'inserimento di nuove forze lavorative nel settore della pubblica amministrazione. Ci vuole, afferma il consigliere di Fratelli d'Italia, un piano assunzionale di vasta portata, in grado di sopperire alla carenza cronica di personale, soprattutto in alcuni settori nevralgici ed essenziali, come quello della sanità, dei beni culturali, della previdenza. Occorre offrire servizi di qualità e, purtroppo, conclude quarto, il reddito di cittadinanza, così come strutturato, ha finito col favorire il lavoro nero con gravi svantaggi per l'economia del paese.